Ad appena tre giorni dal vertice sulla verifica del protocollo d'intesa Enia, Palazzo d'Orleanna, Palermo e il Comune di Gela ha già trasmesso alla regione siciliana una lista di opere cantierabili che il presidente Rosario Crocetta domani potrà presentare al Consiglio dei Ministri assieme all'elenco chiesto anche al Comune di Termini Merese. Sono complessivamente 95 gli interventi richiesti dall'amministrazione comunale per un ammontare complessivo che sfiora il miliardo di euro. da far valere sulle coperture annunciate dal Patto per la Sicilia. Tra le numerose infrastrutture segnalate, ha detto il sindaco Domenico Messinese, risaltano soprattutto opere prioritarie che possano far fronte al dissesto idrogeologico e alle carenze infrastrutturali relative al ciclo integrato delle acque. Con particolare risalta al collettore fognario e alla viabilità con uno sguardo particolare alle aree periferiche della città fra tutte con Trada Manfria e alle attività agricole con lo scopo di realizzare opere essenziali per garantire gli standard adeguati di vivibilità. Un parco progetti così imponente, precisa il vice sindaco Simone Siciliano presente al tavolo palermitano della scorsa settimana che può fare rialzare la testa tutte quelle maestranze gelesi finora tagliate fuori dal mercato del lavoro. Una così poderosa politica di opere pubbliche infatti sarebbe in grado di realizzare un doppio beneficio a breve termine per l'economia cittadina e a medio termine per il volto urbano e di servizi che merita la nostra città. Sabato scorso Reset 4.0 aveva manifestato compiacimento per l'inserimento di Gera nel patto per la Sicilia che consente di utilizzare fin da subito i fondi europei e dare seguito ai progetti esecutivi. I consiglieri comunali Luigi Di Dio e Francesca Caruso e il presidente Maria Ferrera avevano auspicato che la giunta municipale non perdesse troppo tempo nella individuazione dei progetti esecutivi da proporre al governatore Rosario Crocetta sperando che le diatribe interne così come avvenuto per l'accordo di programma non bloccassero il dialogo e il confronto finalizzato alla crescita economica del territorio. Un'opera che non può essere rimandata sostiene Reset 4.0 e il completamento del collettore fognario di Via Venezia e la rete idrica e fognaria delle zone balneari.